Vicesindaco, una manifestazione ricca di colori, fiori, musica e tanto altro? Abbiamo di tutto, dai fiori, dai colori, dai profumi e anche dai sapori perché ci saranno anche street food, laboratori, quindi molto interessante, penso da molti punti di vista, i bambini potranno seguire dei laboratori mentre i genitori potranno visitare i vari stand e ci sarà musica, ci sarà intrattenimento di tutti i tipi e l'attrazione principale saranno i fiori, i colori che porteremo proprio nel posto più idoneo che è quello di Villa Cuglielmi. Una manifestazione che ha previsto l'adesione di molte entità di fiumicino? Sì, certo, si è interrogato e invitato innanzitutto e principalmente quelle che sono le realtà di fiumicino, quindi aziende vivaistiche e aziende agricole del territorio, bio e non bio e poi anche altre quelle esterne, però si è cercato soprattutto di dare un particolare rilievo alle nostre produzioni che delle volte non conosciamo neppure perché ci sono aziende vivaistiche che crescono e che coltivano dei fiori molto particolari che nel nostro territorio sono poco conosciute, un po' di nicchia. Grazie a tutti.